Siamo qui per presentare quello che sarà l'inizio della manifestazione che avverrà sabato 7 ottobre, poi ormai come è da tradizione è una manifestazione che si svolge in tre weekend, quindi 7, 8, 14, 15, 21, 22 ottobre, per poi terminare il 29 ottobre con una fiera merciologica, quindi una fiera, quelle classiche merciologiche, quella che noi chiamavamo dei tartufai, che era una fiera che serviva per spendere quei soldi che i tartufai recepivano dalla vendita di tartufi e per acquistare merce che poteva servire per un inverno più, per stare meglio, più agevole al caldo. Quindi adesso io lascerei la parola all'assessore Antonini che ci introdurrà, ma prima no, prima c'è un video, prima guardiamo un video, quindi guardiamoci un video e poi la parola all'assessore. Alla prossima Alla prossima Ok, allora dopo questa presentazione, questo video, anche l'immagine avete visto di questa manifestazione dove per la prima volta vediamo noi, non noi il tartufo, ma il tartufo come vede noi, il tartufo che da sottoterra vede il cane e il padrone che l'ha trovato scavandolo sottoterra. Quindi, assessore, se vuol dire qualcosa. Allora, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto io ringrazio chi ha organizzato questo momento di presentazione della sessantesima mostra nazionale del tartufo bianco a Sant'Angelo in Bado. Fa molto piacere che sia stata scelta la regione come luogo anche di così diffusione e presentazione di questa importante iniziativa. Quindi saluto e ringrazio il sindaco che ho visto anche recentemente in più di un'occasione e l'assessore Guerra. E li ringrazio quindi, ripeto, per questa volontà di condividere con la regione Marche questo momento. Sessant'anni non sono pochi. Come tutte le iniziative che hanno un valore, come si misurano? Si misurano sulla durata, cioè nel senso se arriviamo al sessantesimo anno vuol dire che è un'iniziativa che è importante e che sicuramente nel tempo ha avuto anche una giunta di valore attraverso un anche magari rimodernizzarsi, riorganizzarsi ovviamente di volta in volta. Perché da oggi andando indietro a 60 anni sono cambiate anche tantissime cose. Tra l'altro vedo un programma veramente importante, veramente importante. Allora la regione Marche oltre a intervenire con gli strumenti dei bandi che appunto anche quest'anno sicuramente saranno vicini e presenti a questa iniziativa, che cosa sta facendo? Proprio recentemente abbiamo intrapreso due iniziative importanti, ovvero abbiamo istituito e dato avvio al primo tavolo della filiera del Tartufo, tavolo regionale, un luogo dove sono stati messi insieme, seduti sullo stesso tavolo, produttori, cavatori, coltivatori, quindi da tutto il mondo che ruota intorno al Tartufo, tutta la filiera fino alla commercializzazione e alla vendita stessa del Tartufo. Un tavolo importante che ha, diciamo, visto proprio come protagonista il prodotto Tartufo. Nel Tartufo quindi tutela del Tartufo, attenzione e sostegno alla produzione il più possibile del Tartufo, che sappiamo che è uno dei temi più importanti. perché se parliamo di Tartufo e perché riusciamo a trovare il Tartufo, soprattutto quando parliamo di quello bianco e anche a, diciamo, coltivarlo quando parliamo del nero, però tutto ciò deve essere ovviamente in qualche modo stimolato, incentivato e comunque ci deve essere un'attenzione particolare. Quindi abbiamo parlato in quel tavolo anche di tutti quegli strumenti da mettere in campo per poter, soprattutto, questo è il primo, diciamo, obiettivo, tutelare, ma anzi aumentare la produzione di Tartufo. Secondo tavolo, che anzi in realtà c'è stato poco prima, è il tavolo che invece non, diciamo, istituzionalizzato, nel senso non mentre il tavolo della filiera del Tartufo deriva da una delibera di Consiglio regionale, in questo caso un'iniziativa dell'assessorato, che però ha voluto mettere insieme i sindaci dei comuni maggiormente rappresentativi del Tartufo. Ovviamente non poteva mancare il sindaco di Sant'Angelo in vado, c'erano i sindaci dei comuni che da Acqualagna ad Amandola, a Pecchio, eccetera, insomma più pergola che rappresentano appunto di più il prodotto del Tartufo. In questo caso abbiamo affrontato più che altro il tema del valorizzazione e promozione del Tartufo. Posto le iniziative, l'abbiamo detto e lo ribadisco anche in questa conferenza stampa, iniziative singole dei comuni che ci sono e ci devono essere e la Regione cercherà di sostenere sempre il più possibile, come questo appuntamento, che ripeto fondamentale, io tra l'altro sarò presente, il 15, purtroppo non potrà essere presente all'inaugurazione diciamo ufficiale, perché sarò con una delegazione addirittura negli Stati Uniti, perché ho anche la delega dei marchigiani nel mondo, quindi c'è la grande convention che si fa ogni cinque anni, quindi dobbiamo essere presenti. Però verrò il domenica 15, ho chiesto al sindaco qual era la giornata diciamo più indicata, idonea, ed è quella del 15, quindi domenica 15 sarò a Sant'Angelo. Dicevo, insieme agli altri sindaci abbiamo, nel rispetto delle iniziative dei singoli comuni, pensato comunque di iniziare a lavorare anche per una promozione che possa veramente riguardare tutto il territorio, tutta la Regione Marche e tutti i comuni. Questo perché? Perché dietro il tartufo noi realmente possiamo parlare, narrare, valorizzare un intero territorio, un'intera Regione. Quindi l'abbiamo individuato ormai, mi sembra in maniera abbastanza chiara, il tartufo come veramente uno dei testimonial del nostro territorio. Io sono assolutamente favorevole ai testimonial importanti, famosi che veicolano il nostro nome in tutto il mondo, però secondo me i testimonial più importanti sono i prodotti che noi abbiamo in maniera naturale, sta a noi saperli ovviamente valorizzare in tutti i sensi. Quindi il tartufo credo realmente rappresenti e possa rappresentare in maniera assolutamente efficace quello che un po' rappresenta anche la nostra Regione. Quindi attenzione particolare, abbiamo parlato di fiere internazionali, insomma c'è un'attenzione sicuramente rinnovata e quindi ho voluto, non so, qualcuno ha detto per la prima volta forse anche riunire come Regione tutti i sindaci proprio per cercare di avere anche degli spunti, dei suggerimenti che sono tra l'altro arrivati e quindi ecco ci muoveremo in tal senso. Chiudo dicendo che noi abbiamo una grande fortuna come Regione Marche, se ne parla da diverso tempo, di avere la possibilità di parlare di un tartufo tutto l'anno. è una delle pochissime Regioni che se lo può permettere, forse l'unica, non so se l'Umbria, una cosa simile, però comunque insomma diciamo saremo un fazzoletto di terra in tutta la nazione e quindi dovremo assolutamente approfittare anche di questa possibilità per ritornare costantemente sul tartufo e avviare una serie di iniziative. Quindi questa la reputo veramente mostra nazionale dagli ospiti e dai temi trattati, da tutto quello che ruota anche intorno alla valorizzazione del territorio, attività, vedo escursioni, attività, quindi riprendo il discorso prima, il tartufo come anche elemento di narrazione del territorio stesso, quindi è assolutamente importante. Cercheremo di lavorare su un discorso relativo adesso al tartufo bianco proprio per quello che possiamo fare. Sappiamo che ci sono delle oggettive difficoltà riguardo la coltivazione del tartufo bianco, quindi la Regione che cosa può fare? Può fare sicuramente dei bandi dove mettere in atto dei miglioramenti di quei terreni per rendere più disponibile proprio il terreno alla crescita e alla presenza del tartufo. Questo sicuramente lo prevederemo nei bandi, fra un po' partiranno tutti quei bandi che appunto riguardano il tartufo. Ormai siamo pronti alla fine del prossimo mese di ottobre o giù di lì. Non ho altro da aggiungere se non augurare intanto una buona inaugurazione, buona partenza e poi ci vedremo dopo una settimana. Grazie Sindaco, grazie Assessore. Bene, grazie Assessore soprattutto per questo tavolo, questo inizio di lavoro, di concertazione che è quello che tutti noi aspettiamo per far sì che il tartufo diventi veramente un veicolo per tutta la Regione, indistintamente, affinché tutti possiamo godere del ritorno in qualche maniera che può portare questo ottimo e splendido prodotto. Bene, adesso la parola al Sindaco Stefano Parri. Sì, intanto ringrazio tutti i presenti e buona giornata a tutti. Ringrazio l'Assessore per essere stato presente e appunto, come ricordava lui, abbiamo fortemente voluto che questa iniziativa qua di presentazione della mostra venisse fatta proprio nell'istituzione che ci ha comune, che ci rappresenta, che è quella della Regione Marche. Mi ricollego un attimo all'intervento che faceva prima l'Assessore. Ecco, il tartufo è uno di quegli elementi per veicolare il turismo e comunque la promozione turistica di un intero territorio. Quindi questa mostra qua la vogliamo pensare sempre di più come rappresentativo e il tartufo lo vogliamo vedere sempre di più come rappresentativo di un territorio un po' più ampio rispetto a quello che è il Comune di Sant'Angelo in Vado, che sono proprio i confini fisici del Comune di Sant'Angelo in Vado. E' chiaro, fermo restando poi le peculiarità che il territorio propone. Quindi il tartufo deve essere tra virgolette un ambasciatore o un testimonia di un intero territorio che è ricco di patrimonio non solo naturalistico ma anche proprio culturale e storico. Come ricordava anche l'Assessore, anzi mi fa piacere che lui l'ha ricordato un attimo fa, il bianco, noi a Sant'Angelo abbiamo anche un centro sperimentale che è sempre comunque di proprietà regionale, l'AMAP che gestisce il centro tartuficoltura, esatto, tra l'altro gli ringraziamo perché anche loro fanno un lavoro egregio sul nero, chiaro sul bianco c'è il mistero della nascita del tartufo bianco, si fa più fatica a fare la ricerca tra virgolette in laboratorio. Quindi benvengano iniziative quelle che si possono fare di tipo boschivo per favorirne la crescita e la nascita. Ecco, sappiamo tutti che il tartufo bianco è un grandissimo indicatore biologico della salvaguardia del patrimonio naturalistico, quindi anche da quel punto di vista lì è importante sostanzialmente. Le tre settimane, come dicevo prima, mi piace ricordarlo adesso, sono ormai da un po' di anni nel filo di una conduzione ormai che per noi è diventata abbastanza classica negli ultimi tre anni, per lo meno, dove il primo weekend lo dedichiamo sostanzialmente all'eccellenza gastronomica del territorio, quindi premieremo uno dei pochi tre stelle Michelin che è presente nelle marche, quindi anche qua il valore della marchigianità che deve essere un plus per quello che andiamo a promuovere nel territorio. Il secondo weekend ci sarà il consueto motoraduno, che anche loro è un motoraduno di tipo internazionale, sono arrivati alla 45esima edizione, quindi anche per loro è una ricorrenza abbastanza importante. E anche in quella giornata lì, in quel weekend lì, avremo, non è un ambasciatore marchigiano, non è un assesore, ma è un ambasciatore un po' di promozione turistica a livello nazionale, perché poi Bruno Barbieri, oltre a essere un quotatissimo chef ultimamente, è anche promotore di siti, di alberghi, quindi ecco la trasmissione che conduce con sagaccia e saggezza, ecco è anche quella una promozione turistica, per arrivare poi al terzo weekend dove di solito noi diamo un riconoscimento che si chiama il tartufo d'oro, andremo a premiare un imprenditore o alcuni imprenditori, poi adesso ancora qualcuno ne abbiamo già identificato, poi qualcosa ancora in corso c'è, imprenditoria che ha avuto particolarmente rilevanza per il territorio marchigiano, oppure imprenditori come abbiamo fatto ad esempio lo scorso anno, che hanno investito nel territorio marchigiano, ad esempio l'anno scorso abbiamo premiato Carpini e Prosciutti, anche se non è originario della nostra zona, però comunque ha investito, ha creduto nei nostri territori, ecco anche per molte di quelle peculiarità che prima l'assessore ricordava, quindi questo è un po' il format delle tre settimane, poi le tre settimane avrete modo di vederlo nello specifico del programma, sono tre settimane ricche e dense di talk, di eventi enogastronomici, di aree per bambini, abbiamo anche delle novità importanti, adesso quella del bosco urbano, poi magari l'assessore le spiegherà un po' meglio e avremo anche una sorta di cineforum, moon drive sulle auto d'epoca in una piazza che riveste nella piazza del Duomo, che è una piazza che ha un particolare pregio dal punto di vista urbanistico e di bellezza. Queste un po' le tre settimane, le prime giornate di cerca che comunque è partita il weekend scorso danno delle risposte abbastanza positive, i primi prodotti io ho qualche amico, quindi c'è già del prodotto presente, quindi a differenza degli altri anni forse la stagione partirà un pochino con anticipo grazie anche alle piogge probabilmente di giugno, che sono state forse un po' delle tere assessore per le città della costa, delle città costiere, però non me ne vogliono, ma noi ci hanno fatto sì che la stagione magari anziché partire a novembre, come di solito succede sul tartufo, quest'anno partiamo già con un piede abbastanza idoneo a quelle che sono le aspettative, quindi il prodotto già un po' è presente, i prezzi non sono così eccessivi, come magari abbiamo visto negli anni scorsi che ha toccato delle cifre abbastanza importanti, però speriamo che sia di buono aspicio per tutti i visitatori che vogliono venire a Sant'Angelo di trovare anche del buon prodotto locale, oltre che degustare i piatti che i ristoratori locali proporranno. Stanno, mi faccio anche l'ultimo cenno sulla ristorazione, abbiamo cercato anche lì di alzare un po' il livello qualitativo dell'offerta gastronomica che promuoviamo, quindi ci sarà un po' per tutte le tasche e per tutti i palati, però ci piaceva anche avere nel comune di Sant'Angelo un posto dove chi vuole può approcciarsi a degustare tartufo con un livello qualitativo abbastanza importante. Abbiamo uno chef, Marco Egli, abbastanza rinomato e famoso, quindi siamo consapevoli e siamo fiduciosi che le impietanze che proporrà ai visitatori saranno degne di notte. Per far capire un po' come si svolge la situazione, come ha detto il Sindaco, ogni fine settimana si caratterizza per un qualcosa di particolare che rende quel weekend uno diverso dall'altro. Se tra l'altro guardate anche il programma troverete che ogni giorno ci sono iniziative che sono sempre diverse, sempre rinnovate. Quindi il primo fine settimana, oltre alla primazione al mondo della gastronomia, e quindi avremo Uliassi come tre stelle Michelin nostro regionale, quindi doppio vanto di avere tre stelle nella regione e di averlo con un grande personaggio. Ci sarà anche un momento dedicato all'arte con un festival che si chiama Tartufarte, che è un nome che magari può sembrare poco originale, però è l'arte declinata un po' al tartufo, ma non è che inventano un disegno dei tartufi, è una maniera di avere un'attenzione di pittori che faranno un concorso di pittura estemporanea e animeranno in qualche maniera tutte le vie del paese. Poi ci saranno anche elementi di body art, street art, comunque una settimana dedicata proprio all'arte declinata in tutte le sue sfaccettature. Il secondo fine settimana poi ci sarà il motoraduno internazionale, che è un motoraduno che addirittura inizia dal venerdì, anche se non è messo nel programma, perché poi il venerdì è solo per il momento dell'arrivo dei tanti ospiti che arrivano anche da altre nazioni europee, e il motoraduno internazionale è un qualcosa che è arrivato anche lui, giustamente come ricordavi, alla 45esima edizione, e vanta dei numeri veramente importantissimi. Penso che dopo lo stelvio sia il raduno con il più alto numero di partecipanti in Italia. Parliamo comunque nell'ordine di 2.000-3.000 iscritti, ma con un giro di 4-5.000 motociclisti che vengono. Terzo fine settimana poi avremo un raduno di auto d'epoca, il terzo mi sembra, penso di sì, quindi comunque vedete tanti modi per poter raccogliere sempre più visitatori con anche tematiche che in qualche maniera cercano di accontentare un po' una vasta platea del pubblico, e la premiazione dei, ovviamente il tartufo d'oro legato a imprenditori che hanno fatto bene alla nostra regione Marche, ma poi vorrei, l'accennava il sindaco, vorrei spendere due parole per quello che riguarda il bosco urbano, perché verrà allestito all'interno del paese degli angoli con delle piante che sono piante simbionte dove nasce il tartufo, quindi sarà un momento e avremo l'associazione di tartufai Pianta una pianta e spera, questo è il nome di questa associazione, che condurrà le persone nella conoscenza e nella magia che c'è tra la pianta che ospita il tartufo e il tartufo stesso, e quindi questo bosco urbano poi ospiteranno anche all'ombra, poca ombra perché non saranno alberi secolari, ma comunque ai piedi di questi alberi ci saranno anche dei momenti di riflessione, di talk che verranno svolti. Poi ci sarà il drive-in, il sabato sera verrà fatto praticamente un drive-in con auto d'epoca, quindi ci sarà la possibilità per chi vuole di vedere dei cortometraggi però visti all'interno di macchine d'epoca, quindi un po' come nell'America degli anni 50-60 quando il drive-in era comunque uno dei metodi di socializzazione più importanti di quel periodo storico. Abbiamo tante mostre d'arte, ne abbiamo quattro, dislocate dalla Domus del Mito fino alle chiese che stanno all'interno del centro storico e quindi ecco che vedete in effetti c'è tanto, il palinsesto è molto molto ricco. E di questo mi sento di ringraziare per il grande apporto, per l'ideazione Omnia Comunicazione, che sono l'agenzia che sta collaborando con noi e devo dire in una maniera egregia, perché ci stanno veramente portando a far capire quanto può essere importante, dove si può arrivare con un prodotto come il tartufa e quindi di questo non possiamo che esserne grati. Detto questo io penso che potrei finire qui se avete qualche domanda, qualche dubbio, perplessità. Una cosa io veloce, poi lascio spazio un attimo alle domande, eventualmente se ci sono. Chiaro che questi eventi qua hanno bisogno del sostegno in primis, come diceva prima l'assessore della Regione Marche, che non fa mancare tramite bandi appositi il suo contributo. Poi noi abbiamo un importante contributo dell'Unione Montana, che comunque è soggetto deputato alla gestione, diciamo così, della cerca del tartufo nei nostri territori, ma sta in piedi grazie anche delle sponsorizzazioni dei privati. Quindi abbiamo anche una serie di sponsor e anche di mini sponsor, tra cui mi piace citare l'ultimo che è arrivato, che è Mati Group SPA, una realtà imprenditoriale importante che è del Sud Italia, ma ha una sede anche su Pesaro. Io ci siamo sentiti qualche giorno fa, avevo mandato qualche foto di un amico cavatore, sotto i 1000 euro per il momento. Poi dopo i commercianti dicono che ancora il prezzo è abbastanza calmirato perché non c'è tanta domanda, sostanzialmente dicono da parte dei ristoratori, che ancora a settembre ancora fa caldo, quindi probabilmente la stagione autonome non è entrata proprio nel vero e proprio. Però di prodotto si comincia a esserci, sì, e il prezzo è inferiore ai 1000 euro. La quota che viene riconosciuta è chiaramente al cavatore, poi dopo c'è il ricarico del commerciante, però sostanzialmente anno scorso, io mi ricordo che all'inizio, i cavatori gli davano circa 3000 euro per avere un ordine di grandezza del prezzo. Sì. Probabilmente nel periodo novembre, che di solito noi siamo abituati, poi negli ultimi anni delle stagioni, dico anche alla giornalista, non so se è in collegamento, se ci ascolta, se ci sente, però il concetto è che negli ultimi anni delle stagioni si sono un po' più spostate più avanti, non novembre, tant'è che la cerca è stata allungata fino al 20 di gennaio, non è stata fatta appunto per questo, che comunque la stagione, diciamo così, autunale-invernale si è un po' spostata verso fine anno. Di solito il periodo migliore è quello di novembre, le previsioni sono di avere un tartufo al chilo sui 5, 6, 700 euro al chilo, dalle premesse che ci sono oggi. Poi magari, essendo un prodotto dove la leatorietà la fa da padrone, vedremo ecco quello che sarà, però le premesse ci sono per avere un prodotto di ottima qualità, dei prezzi accettabili.